La cosa più bella del lavoro del commerciante è quella di dare una grande soddisfazione al cliente e se tu sei in prima linea nel lavoro del commercio, sei a stretto contatto di gomito con i tuoi dipendenti, perciò non riesci mai a abbandonarli se la nave dovesse affondare. Prima ci metti tutte le pezze, cerchi di non farla affondare e poi dopo ti comporti conseguentemente, anche perché nei periodi d'oro questi dipendenti ti hanno aiutato, hanno contribuito alla tua fortuna. Se ci sopprono momenti difficili non è che tu li possa abbandonare.